Ancora le ultime curve, sembra di stare a Misano praticamente, le ultime curve, prima del traguardo. Non è il camion della... Non è questo camion rosso ovviamente, sta per arrivare dopo questo camion rosso. Io sono sempre qui in presa diretta, i tanti tifosi che ormai sono giunti qui, sono pronti a fare video perché purtroppo solo questo possono fare al momento. Niente abbraccio virtuale con la squadra, ma da lontano appunto vi sarà questo saluto ai tifosi. Vediamo appunto le immagini, questa è la strada, la lunga strada che appunto vedrà adesso l'arrivo del bus tutto azzurro, quello ovviamente nuovo con il volto di Maradona e l'efficio di Maradona su entrambi i lati. Sento già delle trombette che strombazzano, le auto e la polizia, eccole qui. Ed ecco il pullman del Napoli, i campioni d'Italia sono arrivati a Castellisangro. Anzi, arrivi Sondoli direi perché siamo qui all'hotel Aquamontis. Eccoli qui i campioni d'Italia, due pullman e i tifosi esultano qui. Ecco i campioni d'Italia a Castellisangro. Passa il primo pullman, passa il secondo pullman con i membri dello staff. Arriva anche Nicola Lombardo in auto a filmare. Diceva signora? E' una vergogna che non si sono neanche fermati, basta, punto. Ha ragione signora, ha ragione. Mancanza di rispetto proprio, è una mancanza di rispetto verso chi è venuto qui. Sono passati volando. Esatto, mi dispiace ma non va bene così, mancanza di rispetto verso di noi. Grazie signora, grazie e buon proseguimento. Claudio, ci dicevano una mancanza di rispetto enorme la signora. Qui dicevi che magari adesso carico il giro. Sì, no.